Aspetta, aspetta, c'è gente che ha detto di voler vedere. No, no, l'ha visto solo degli amici miei e mi hanno fatto la faccia a strada. Ma regà. Credo l'ho sfonato. I cugini di Staino. Dobbiamo... Oh, è a gara. Che t'ha fatto? No, non sarebbe. Aspetta, è peccanzeggiato. No, no, fai così. Vai, vai. Aspetta. Chi arriva e ritornava il tuo posto? Chi arriva e ritornava il tuo posto? Chi arriva e ritornava il tuo posto? No, dammi. Dallo al live. Che madre. Che vedi? Per Dio, come stanno? Sì, ma te ne mangi un dino. Dio, mio, mio! Non te ne mangi un dino. C'è stava la macchina accesa con due persone dentro a vederci questi due coglioni. C'è stava la roba qua sopra.